La ASL ha un nuovo direttore sanitario. Si tratta della dottoressa Simonetta Santini, attuale direttore dell'Unità Operativa Complessa di Patologia Clinica dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila. L'atto di nomina è stato firmato dal manager Rinaldo Tordera. L'incarico è di tre anni, la durata minima fissata dalla normativa. La Santini prenderà servizio lunedì prossimo, il 14 gennaio. Il manager Tordera ha voluto ringraziare la dottoressa Maria Teresa Colizza, direttore sanitario uscente, per l'elevata professionalità, la costante dedizione e anche l'abnegazione dimostrate nello svolgimento dell'incarico che le fu conferito con mandato quinquennale nel gennaio del 2014, quattro mesi prima delle elezioni regionali del 25 maggio dello stesso anno. La nuova nomina, ha detto Tordera, è stata una scelta obbligata, poiché l'incarico dell'attuale direttore sanitario non è più prorogabile né rinnovabile, sia per ragioni anagrafiche sia perché collocata in pensione. Senza una nuova nomina, le deliberazioni del direttore generale sarebbero viziate dalla mancanza del parere del direttore sanitario, che è obbligatorio per legge e ciò pregiudicherebbe la piena operatività aziendale, con inevitabili ricadute negative in termini di erogazione delle prestazioni sanitarie. Un rischio che va assolutamente scongiurato per Tordera, a garanzia della continuità assistenziale e della tutela della salute, di cui la ASL è garante, ha rimarcato il manager Tordera. Grazie. 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 Grazie.